Buongiorno, benvenuti, Occhio ai giornali 7.30, siamo in diretta da Fano TV, naturalmente sfoglieremo i quotidiani che trovate in edicola quest'oggi, tante notizie, una su tutte, l'arresto dell'assassino del Catamarano ma anche altre cose, procediamo con regolarità però, prima il santo del giorno e poi le previsioni del tempo, allora oggi è sabato 21 maggio, Sant'Eugenio Vescovo, il sole è sorto alle 5.35, tramonterà alle 20.34, insieme alle previsioni del tempo dicevamo guardiamole quelle per oggi, sabato il cielo è sereno, le precipitazioni assenti, le temperature minime in diminuzione e le massime in aumento, quindi sole pieno su tutta la regione, domenica invece domani, anche qui diciamo tendenzialmente al bello, solo qualche nuvolosità di bassa intensità sui rilievi, sereno e aumento della nuvolosità in serata, però le precipitazioni assenti e le temperature in aumento, quindi diciamo un fine settimana sul bello, le previsioni per lunedì cambiano radicalmente perché ricompare la pioggia, nella seconda parte della giornata sono previste precipitazioni sparse, il cielo inizialmente poco nuvoloso con progressivo aumento della nuvolosità e questo era il weekend il lunedì, il primo giorno della settimana. Guardiamo le pagine dei giornali, partiamo dal resto del Carlino che mette in primo piano, una notizia che c'è in tutti i giornali, anche in cronaca nazionale, l'arresto del killer del catamarano, Pippo, soprannome, tenetelo dentro, ripreso il killer del catamarano, sconti l'ergastolo. Asfalteremo anche le polemiche, questo è insomma quello che dice Ricci, il sindaco annuncia 7 milioni e mezzo di lavori, più buche chiuse in 130 strade, è una cosa che non è mai accaduta e poi Ottaviani e i suoi 100 anni festeggiati con 5 primati ad Ancona, Ottaviani, Lailander e poi ancora le panchine che continuano a mettere in subbuglio gli animi dei pesaresi. Allora, il resto del Carlino dedica ampie pagine all'arresto del killer del catamarano, De Cristofaro, finalmente preso, si nascondeva a Lisbona, fuggiva in costa d'Arvorio ed era anche stato visto a Milano qui una parte del suo documento falso che appunto con il nome di Andrea Bertone in tasca gli hanno trovato quasi 6 mila euro in contanti. Stava tentando anche di fare un traffico di diamanti, era diretto appunto in costa d'Avorio per questo motivo e le panchine dicevo che continuano a destare malumori e parla Anna Maria Benedetti, esperta e storica d'arte e che ribadisce le critiche, è una ferita violenta eppure inutile, le panchine sono fuori da ogni contesto dice, facile alternativa qual'era, era meglio insistere con le sedute con i leoni alati, anche colorate di blu ma pur sempre in linea con l'arredo preesistente e qui vediamo nella foto appunto le panchine citate da Anna Maria Benedetti che secondo lei erano più contestualizzate. Andiamo nelle pagine di Fano, del resto del Carlino, si parla di abbattimenti, di pini per ampliare il marciapiede della via ed esplode la polemica, c'è chi insorge ma la strada non è sicura, parliamo di via Fabri, ora è sotto com'era prima, vedete qui le due foto e insomma questo non è piaciuto a qualcuno e poi vi faccio rivedere anche la stessa pagina in basso perché si parte con l'esproprio e anche le proteste e Don Marco Polverari continua la sua battaglia su questo fronte. Sarà una domenica a tutto bambini in Viale Gramsci perché c'è appunto la città da giocare, da colorare e un mare di divertimenti in programma per i più piccoli, le strade chiudono al traffico e si aprono appunto ai bambini, vedete qui una scacchiera gigante e quindi insomma ci sarà veramente domani di che divertirsi per grandi e piccini perché poi dopo il divertimento è un po' anche per tutti. L'altra pagina di Fano del Corriere Adriatico parla di politica, di ospedale, la Lega scende in campo e insomma lancia una raccolta firma mirata a convincere i consiglieri regionali di maggioranza a non sostenere i ceriscioli, quindi un appello che gli verrebbe dalla base, da chi li ha eletti, questo almeno nelle intenzioni della Lega, visto che la Regione decide e non ascolta nessuno, voi avete il potere di cambiare le cose, questo è l'incipit della raccolta delle firme. E poi una notizia che troviamo solo nel Corriere Adriatico, nell'articolo di Massimo Foghetti, ambito, si parla di ambito sociale, Mandolini, il protempore che c'era fino adesso, che ha traghettato l'ambito da quella situazione difficile che è stata lasciata fino ad oggi, non firma il contratto che gli si vuole far fare non più come protempore ma come effettivo. Ha ancora delle cose da sistemare con Senigallia, però non ha firmato e quindi adesso l'ambito si trova in un momento di stallo. Continuiamo nelle pagine del Corriere Adriatico, si parla di Fanogeo che apre i battenti questa mattina e anche qui i bambini protagonisti, 300 bambini per le fattorie didattiche, si inaugura al Codma la grande manifestazione che parla appunto di agricoltura, sapori e saperi della terra, tutto quello che riguarda il mondo dell'agricoltura. Anche qui un sabato e una domenica intensi come programma e poi buone notizie per Pergola e per gli abitanti di Pergola perché è annunciato da Pergola Unita che torna il medico al pronto soccorso. Ora dice appunto Pergola Unita potenziare l'attività dell'ospedale. La pagina di Pesolo del Corriere Adriatico incentrata in maniera insomma appunto in evidenza le asfaltature. Da lunedì via al piano storico, definito storico di asfalti, interventi su 40 chilometri di strade, Belloni dice si parte dalla zona mare che è anche questa una zona turistica come è avvenuto per Fano, naturalmente si parte da zone più sensibili. Questa notte è la notte europea dei musei aperti e anche Fano, insomma tutta la provincia ha i musei aperti e il tour della bellezza è un salto nella storia, musei aperti in tutta la provincia, gli appuntamenti qui in questo articolo di Fano, Pesaro e Urbino che insomma fioccano fino a notte fonda, strutture aperte, musei, tour guidati, insomma ce n'è per ogni. La pagina di Senigallia del Corriere Adriatico cita la Mille Miglia che ha fatto tappa appunto nella città della spiaggia di Velluto però tra spettacolo e proteste alcune famiglie di Scapezzano insorgono per la strada bloccata, è il caso di un padre con la figlia malata. Anche qui notte dei musei, orai prolungati e degustazioni, tutto pronto a Senigallia per accogliere questo avvenimento e insomma come sempre avviene quando ci sono queste manifestazioni che fanno sì che la viabilità ordinaria sia un po' stravolta, non sempre si trova il consenso di tutti, soprattutto poi se ci sono delle necessità di carattere sanitario. La pagina di apertura dell'inserto della provincia del messaggero, anche questo tutto centrato sull'arresto nella fotonotizia del killer del Catamarano, del Cristofaro, donne, traffico di diamanti dal Portogallo, voleva rifugiarsi appunto in Africa, in Costa d'Avorio e trafficare in diamanti. Panchine pop, anche qui lodi, critiche e petizioni, la notte della cultura, musei aperti e poi al passaggio festival a Fano arriveranno dei nomi di spicco tra cui appunto Augias che lo vedete qui nella foto, Colombo che era uno dei giudici del pool di Mani Pulite, insomma quindi sarà sicuramente un passaggio festival molto qualificato. E appunto vedete anche qui il messaggero dedica una ricostruzione della cattura di Pippo, il soprannome di De Cristofaro, Lisbona quasi stato, la telecamera inquadra Pippo e scatta il blitz sul treno all'arresto di De Cristofaro dopo due anni di latitanza perché era il numero uno dei ricercati per crimini comune. Qui nella insomma nella cartina tutta la ricostruzione, l'omicidio, le fughe, tutto quello che è successo un po' la cronistoria di tutto quello che riguarda questo personaggio. Poi a Pesaro è partito il set per la fiction su appunto Lucia Annibali. Anche lei sul set, lunedì il primo Chuck di Io ci sono nella boutique Ratti, poi si proseguirà in altre location in base anche al meteo. Tanta attesa e partecipazione della città come ha confermato la folla al casting per le comparse. Ora arriveranno gli attori, gli attori quelli che interpreteranno appunto le figure principali della fiction. Fanno l'ultima pagina quella delle messaggero, si parla di Carnevalesca e Marcheggiani adesso fa sentire la sua voce perché l'assessore al turismo dice accordo o si voti di nuovo perché è necessario che ci sia un interlocutore a cui rivolgersi per le tante attività che bisogna mettere in piedi, vedi Carnevale estivo, però in questo momento non c'è nessuno. Infatti quindi il Comune è preoccupato, la Notte Rosa e le altre iniziative aperte sono una necessità. L'Assemblea elegga il Presidente e questi scelga il direttivo. Questo l'appello di Marcheggiani. Don Marco anti-espropri, insomma una brutta sorpresa, va avanti nella sua lotta e insomma è anche la Lega in fondo di pagina raccolta firme per il Santa Croce. Torna Republic Festival tra musica, giochi e baratti. Bene, questa era l'ultima pagina che vi proponevo per oggi. insomma non mi rimane altro che augurarvi un buon fine settimana tra le tante cose che ci sono da fare in questo weekend e poi naturalmente la rassegna stampa tornerà lunedì mattina puntuale alle 7.30. Grazie e buon fine settimana a tutti voi. Grazie a tutti.